Allora c'è un gelataio genovese, c'ho lo scaldacollo rosso-blu con i colori del genere che a fallo apposta. Un gelataio genovese che si trova in una spiaggia a vendere gelati, ma una spiaggia molto particolare perché è una spiaggia di nudisti. Allora cammina sulla spiaggia con i suoi gelati e a un certo punto gli si avvicina una donna bellissima, una ragazza bionda, alta, ben fatta, formosa, una bellissima donna e ordina due gelati. Allora il gelataio genovese comincia ad osservarla dall'alto in basso, dal basso in alto, poi gira intorno, la guarda da dietro, davanti. Allora la ragazza si dispettisce, ma insomma si rende conto che quello che sta facendo, siamo in una spiaggia a nudisti, ma è possibile che non ha mai visto una donna nuda, una ragazza nuda in una spiaggia? Sì sì no, e di ragazze nude ne vedo, il fatto che sto cercando di capire da dove tirerà fuori i soldi.